L'apertura a 5.40 con tre errori subito, tanto qui non parte il Panamense Arturo Delisar. Oggi pomeriggio, sogni di gloria, prima di passare il 400, ingaggiò duelli italiani con Fabrizio Magli, che poi mese la freccia e andò, vincendo anche un titolo mondiale, erano tutte e due oltretutto alle 14. Uno dei favoriti, Emanuele Caralis, un po' in difficoltà, ha fatto proprio quattordicesimo, tra l'altro, attenzione, poteva essere non qualificato, è quattordicesimo in classifica, ma presumibilmente si sono messi d'accordo di non andare all'attacco dei 5.30 e a quel punto di portare tutti i 14 in finale, non andare all'attacco dei 5.30, erano due dodicesimi, quindi per uno solo c'era il rischio di dover fare la quota in più, due dodicesimi a pari merito, Sander Moldau, Estone e Urho Kuyampè, il finlandese. Gorman, questo bel 20.84, però hanno deciso di portare tutti, uno solo, Curtis Marshall, ha affrontato i 5.30 senza errori, in gara Matteo, capello sesto.